Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video, che cliccio, come state? Spero bene. Allora, scusate un po' se sentite rumori dalla televisione, ma non ne posso fare a meno. Quindi, spero che questo video vi piaccia. Comunque saluto tutti i miei scritti, tutti insieme, perché siete veramente meravigliosi. Forse non lo faccio da un bel po' di tempo, ma ora lo faccio di nuovo. Renuvo le mie salute, tutti quelli che insieme, da prima e da ora, in questo istante. Comunque, nulla, ho cambiato questa opzione perché penso che la luce si veda meglio. Anche perché, non solo, perché, sì, la location sembra meglio. Quindi, ovvero, la posizione del video appare sempre la miglia. Allora, scusate un secondo. Eccolo qua. Allora, innanzitutto, stamattina, farò fare un morning routine, ma non ce l'ho fatta. Quindi, lo farò in questi giorni, in un morning routine, sempre che il telefono non si scarica prima. Comunque, sì, perché i giorni saranno sempre con il telefono. Quindi, vabbè, niente. Allora, volevo mettermi in bagno fare una skin care, ma ormai c'è poco da skin care. Perché ho quasi, ho le sopracciglie struccate. Quindi, vabbè, niente. E' nulla, giù. Nel frattempo si sta aggiornando il mio pc, perché non ho solo il telefono, ma c'è anche il pc fisso. Non so cosa voi potete vedere da qui, ma di fronte alla telecamera, anzi, di fronte, dietro alla telecamera c'è il pc. E' un secolo di vita. E niente. Comunque, domani mi vedrete di nuovo con i bottelli legati, perché questi capelli, eromani, sono diventati troppo crespi. Un po' volete per l'umidità. E un po' anche perché, sì, sono crespi, sfibrati e altro non so. Non so se si vede qualche cosa dal capello, dalla telecamera del video. Vedete come sono. Non sono il massimo. Già. Non so cosa si possa percepire da sto capello qua, dal video. Vabbè. E' nulla. Praticamente, oggi sono uscita un po' a fare tante belle passeggiate. Poi, ovviamente, me ne sono tornata a casa. Ah, sono andata a portare il computer, quello portatile, che c'ho in sala, perché andava troppo lento e l'ho voluto resettare. Perché ho provato a farlo resettare, a ripulirlo, ma non c'è stato niente da fare, perché io non so capace di pulire il computer. Quindi, ogni tot di mesi, o anche di una volta di papa, lo faccio pulire d'altre persone più esperte di me, ok? E niente. Il prossimo video sarà un drama life. Già ve lo anticipo. Ve lo dico. Ve lo sto dicendo. Allora, il prossimo video sarà un drama life. E' nulla. E dopo di questo video farò un video ASMR. Non lo so, se lo farò adesso o dopo. Lo vediamo. Boh, non ne ho idea. Già. Che altro dirvi? Tendete un attimo che voglio vedere se che eri sono. Sono le 8.25. Così l'altro in mezzo mi devo anche spiegare a fare sto benedetto video. Che sto registrando in questo stante. E niente. Qualcos'altro vi volevo dire? Nulla. Come outfit, vedete, sempre questo, ragazze. Perché sì, ragazze. Ho deciso di mettere questo outfit. Che è tra l'altro con questi pantaleggis. Questi pantaleggis. Che non so se cosa si possa vedere. Non è un voto sintetico. Di ogni singola partita. E nulla. Questo è quanto. Ah, mi stavo dicendo appunto. Non so se vi piace come sono vestita oggi. Ma semplice. Mi va di fare. Sperando che mi sentite. Perché non so se riuscirò a montare questo video. O meno. Vediamo. I lavori manuali. E se le vi taggiano sul film con l'uscita. I dosi a uno dei prezzi forti del brand. Per Natale. I capitali secondo gli studi di mercato sullo shopping di dicembre. Sono sempre tra i più ricercati. Un classico regale. Che duro che anche l'interno. E niente. A breve. Rituccherò. Ah. Perché volessi sapere. No, già ve l'ho detto. Quindi inoltre che mi sto per ripetere. A New York si può fare un'esperienza davvero mozzacchiata. Già. Addio. Tuttamenti romantici ci mani imparsi. Allora. La nuova moda in New York sono gli osservatori. Sono un'esperienza mozzacchiata. E dopo la cattedra. Scusate se faccio queste facce strane. Da come si diceva. Qua in Sardegna da Buccalotta. Ovvero da Sceo. Ma vabbè. Ma non ho più idea. Di cosa classica dirvi. Devo solo specialmente. Come solo specialmente. Devo solo dirvi. Che quando faccio questi video. Mi faccio così. Libri scialli. Non so dire tranquilli. Come si dice in verbo romanaccio. Ogni tanto mi devo guardare. Che sono. Infatti sono così all'8 e mezza. Ecco perché ogni tanto. Tocco. La telecamera. E mi trovo dopo me. Adesso mi può. Attendete un attimo. Ok. Eccolo qua. Stavo pollendo con questo strafinaccio. Con questa pezzetta di. Per pulire il telefono e il computer. Parla tablet. Che Dio si voglia. Perché mi veniva meglio. Per farmi meglio in video. Cioè nella telecamera. Comunque la scappo. Perché mi stanno veramente. No. Dicevo. Con la televisione non si sente al massimo. Quindi nulla. E niente. Allora. Ragazze mie. Boh. Ma io voglio sapere veramente. Che adesso. Ho già guardato mille minuti fa. Lo so. Quasi a mezza. Mi sto preoccupando perché. Non vorrei che venisse mia nonna. A interrompermi. Come. Faccio come fa sempre. Quindi vabbè. Nulla. No. Perché l'amor di Dio. Non pensate male. Che io tratti Mariona. Non la tratto male. Tranquille. E che. Non l'avviso mai. Quando faccio il video. E di solito. Quando l'avviso. È troppo tardi. Perché. Le dice. Ecco. Che stai parlando. Sto parlando ovviamente. Con voi. Ecco perché. Già. E niente. Ok. Ragazze. Io adesso. Vi saluto. Perché non so quanto è durato il video. E ci si becca. Ancora. Ci si becca. Siamo parte. Un bacio. E se vi è piaciuto il video. Mettete un bel like. E perché no. Commentate. Garbatamente. Come dicono le Martinoz. Ehm. Attivate la campanella. Fatela diventare nera. Ok. Poi cos'altro dirvi. Niente. Nulla perché. Oggi il video va così come. Ciao.